Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto nella cucina italiana, è morto il famoso chef italiano. La terribile notizia è arrivata pochi minuti fa, lo chef italiano era molto famoso. Lo chef lecchese si è spento a 74 anni dopo una lunga malattia. Con Claudio Prandi si chiude l'epoca d'oro del griso di Malgrate, che ha segnato un capitolo straordinario della ristorazione italiana. Claudio Prandi, celebre chef pluristellato trapiantato nelle chiese, è morto oggi dopo una lunga malattia, aveva 74 anni. Con la sua scomparsa, si chiude definitivamente la stagione del griso di Malgrate, uno dei ristoranti più rinomati d'Italia, che sotto la guida di Prandi e del patron Bruno Gobbi, tra i più autorevoli esperti di enogastronomia italiana insieme al figlio Roberto, ottene fama internazionale. Nato ad Arco, in provincia di Trento, nel 1950, Prandi ha segnato una carriera memorabile, diventando un punto di riferimento per l'alta cucina. Il suo ingresso nella storia della ristorazione comincia nel 1968 quando, appena diciottenne, viene chiamato all'hotel Griso di Malgrate da Domenico Sala, all'epoca chef del ristorante.